Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting Mio Podcasting è un contenuto audio su A cadenza trimestrale In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog Fate riferimento quindi al blog Mio Radar al blog Mia Fantascienza al blog Valeo Contatto Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting in stagione 15, episodio 53 In questa puntata parleremo rapidamente del rapporto Cometà il link alla bloggata lo trovate in descrizione Associazione privata senza fini nutro di lucro Cometà Comité des Etudes Approfondies è in attività dal 1996 e la presiede in generale dell'esercito francese Denis Letty Lo scopo dell'associazione è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica francese sul fenomeno degli UFO cercando di studiare le possibili conseguenze sulla difesa francese L'associazione Cometà è composto da ingegneri, commissari di polizia, generali di forze aeree dell'esercito, ammirali L'obiettivo del rapporto Cometà era quello di studiare scientificamente il fenomeno UFO valutando la reale consistenza, l'origine e il fine è considerato il rapporto Cometà un importante documento che confuta le resistenze degli scettici dato che il dossier fu inviato nel 1999 al Presidente della Repubblica Francese Jacques Chirac e al Primo Ministro Lionel Jospin Questi fece poi in modo che il rapporto Cometà apparisse come un documento ufficiale del governo francese Il rapporto Cometà, il PDF, è facilmente scaricabile, raggiungo e rintracciabile in Internet testa in francese ma è possibile ripeterlo anche in lingua inglese Dopo una premessa generale e una chiusura articolata che dà la realtà e alta consistenza all'ipotesi di visite aliene sul nostro pianeta Il rapporto conclude chiedendosi a cosa l'umanità deve prepararsi De fatto il dossier propone a sostegno delle sue tesi vari casi ufologici Alcuni sono di valenza internazionale, altri sono relativi con avvistamenti e tracce a terra altri sono relativi con incontri da avvicinati Non è però tutto oro quello che luccica dentro il rapporto Cometà Infatti ad un'analisi critica meticolosa si scopre che sono solo 5 gli eventi che appaiono UFO Genuine di tutti i casi proposti, in particolare appaiono eventi reali e misurabili e non spiegabili e quindi con una matrice imputabile a visite aliene relativa al caso del volo AF3532 del 28 gennaio del 1994 I casi di Lakeni e Bentwaters nel 1950 Il caso dell'UFO a Tehran dell'F4 Phantom 2 nel 1976 Il caso di San Carlos di Bariloche nel 1995 E il caso Antanarivo del 16 agosto del 1954 I restanti casi del caso Cometà sono invece vere e proprie patacche oppure sono diciamo eventi per i quali non vi è dati sufficienti per poter esprimere un razionale giudizio però nel complesso diciamo anche se la maggioranza dei casi proposti dal concato dal dossier Cometà non sono di qualche spessore in realtà ve ne sono 5 che invece sono interessanti e non servono millantanovemila statistiche UFO per dimostrare i visi italiani e basterebbe anche uno solo di caso ben documentato e ne abbiamo 5 qui tutto sommato il rapporto Cometà è un interessante dossier che per chi è interessato diciamo alle tematiche UFO io vi invito a darci un'occhiata per questa puntata è tutto il link lo trovate in descrizione del file di Youtube ciao ciao